...alle scuole a cui è stata proposta e hanno aderito anche in massa, per cui speriamo che sia un'attività che possa mi piacere e che si riproponga anche in futuro. La collaborazione con l'ACI dura già da parecchio e quindi ci si augura anche con l'ufficio scolastico che questa collaborazione possa continuare. Quindi porto anche i saluti della dirigente e quindi insomma che non è potuta venire però è contentissima anche lei per questo. La dirigente? E Giuseppina Mutisi.